Bene, eccoci qua al punto, eccoci qua negli studi di Telefriuli, oggi parleremo di università, dell'Alleanza Università, del Manifesto dell'Università e parleremo con il portavoce di questo comitato molto importante che si è formato che è l'Onorevole Giorgio Santuz, benvenuto onorevole. Grazie. Bene, l'ora è particolare perché i nostri amici stanno pranzando a casa. E gli auguriamo buon appetito. Esatto, esatto, poi noi andremo dopo, andremo più tardi. Bene, allora prima di partire per capire che cos'è la cosiddetta terza missione di questo comitato, io sarei contento che facesse un po' la cronistoria perché nel 77 non molti erano nati, non molti lo sanno che questa università è nata dal popolo, quindi dal terremoto. Questa disgrazia che comunque ci ha dato anche molte priorità e molte eccellenze. Sì, sì, volentieri. C'è stato, e pensi, che nel gennaio, il 2 gennaio del 1946 si è riunito il primo gruppo dei fondatori del movimento Friuli di allora in cui avevano tra i punti da sviluppare anche l'università del Friuli. Poi con cadetto abbiamo creato un consorzio, però il colpo grosso, la spinta, è arrivata subito dopo il terremoto, un mese dopo, quando 125 mila friulani, che erano nelle tende ancora, hanno sottoscritto la richiesta dell'università friulana. Io pensavo che fosse una cosa così, che rimanesse qui. E invece a Roma mi hanno presentato il testo stampato dalla Camera con la richiesta dell'università attraverso un movimento popolare. Quindi è stata la nascita quella. In quei giorni il presidente della regione, mi pare l'avvocato Comelli, no? Il presidente era Comelli, sì. Quindi voi avevate fatto una specie di trade union anche perché la situazione era particolare, ma all'interno di questo c'era anche il problema dell'università che era considerata una cosa da non sottolineare, cioè da fare assolutamente. Ma quello che stupisce di questo nostro popolo friulano è che in piena emergenza, cioè nelle tende, nelle baracche, non ci chiedessero sovvenzioni, ci chiedevano l'università, hanno firmato per l'università. Cosa prioritaria era l'università a Udine. Ecco, allora questo comitato che è formato, io mi ricordo alcuni nomi, Francesco Barazzutti, Giuseppe Bergamini, Duelo Corniali, Gianfranco Ellero, Angelo Floramo, Roberto Moradore, Diego Navarria, Ramondo Strassoldo, Bruno Tellia. Ah, come portavoce, Santusche, ormai onorevole, eccoministro, professore, insomma. Ecco, quindi di ben augurio questo. Ecco, quindi questa terza missione in cosa consiste? Consiste nel fatto che un gruppo di questi personaggi che lei ha appena menzionato, si è trovato e ha detto, ma scusate, qui siamo in piena rivoluzione mondiale, ci arrivano i cinesi. Cambia il mondo, insomma. Il mondo. Cosa facciamo di questa università? Non è che rischi un po' la volta di depauperarsi, di sparire, poi si comincerà a dire che due università su un territorio così piccolo, eccetera. Torniamo all'origine, e l'origine è che questa è una università fatta per questo popolo. Non è provincialismo, questo è andare alle radici. E questo popolo deve sviluppare avendo a disposizione un asset come l'università. Quindi non c'è nessuna, diciamo così, battaglia contro Trieste, ma anzi. Non siamo contro nessuno, noi siamo per l'università di Udine, perché ritrovi le motivazioni della sua origine, che per lo sviluppo del Friuli, poi adesso siamo nell'industria 4.0, quindi necessità di avere il cervello. Un'università sul territorio e per il territorio, no? Sì. Quindi, per esempio, lei ha citato adesso l'industria. Ecco, il rapporto con l'industria friulana, con il Confindustria in particolare, insomma. Noi siamo stati ricevuti con molta signorilità e di interesse da parte dell'Associazione Industriale di Udine. nella persona della Presidente e della Dottoressa Mareschi Danieli, una famiglia che io conosco per attività che fece in passato all'industria, e abbiamo illustrato questo documento, questo manifesto, che si è riservata di portarlo in giunta e di darci una risposta quanto prima. Comunque era molto interessata. Ecco, quindi qui abbiamo anche, diciamo così, anche la Chiesa, la Chiesa friulana ha sempre, in qualche modo, no? Concorso. Come ha, come dire, capito questo? Singolarmente, singolarmente hanno capito, infatti, all'assemblea che abbiamo fatto per illustrare questo documento. C'era Monsignor Detena, che è uno dei fondatori del momento Friuli, che è di Nimis, poi c'era Duiglio, Corniani, però ufficialmente non si è esposta alla Chiesa. Ecco, i sindacati mi pare invece che... I sindacati sono una loro polemica interna, che non ho ben capito, tra CISL e gli altri, però i pensionati della CISL hanno detto che vogliono parlarci, insomma, sono interessatissimi anche loro. Ecco, i partiti come l'hanno presa? Perché in qualche modo... Ci seguono, vedono... Tanto noi siamo un gruppo trasversale, un gruppo di intellettuali, quelli che hanno fatto l'università, che adesso poi anche di fronte alla scadenza del rettore, verrà eletto il nuovo, mi pare, il prossimo mese, lo contatteremo i candidati e li presenteremo questo documento chiedendo loro cosa ne pensano. E questa è un'iniziativa molto interessante. Come sarà un'iniziativa interessante anche quando avrete l'incontro, se non l'avete già avuto, anche con il Presidente della Regione? Perché in qualche modo dovete... No, dobbiamo vederlo, però lo chiameremo. Abbiamo avuto un incontro molto interessante con Zanin, che è il Presidente del Consiglio, ci ha fatto anche una bella lettera. Adesso appena è finita questa storia qui del Congresso delle Famiglie, su cui io personalmente sono assolutamente d'accordo, io concordo con le posizioni di Fedriga su questo tema, che si tiene a avere una caricata, fuori luogo. Si tratta di dire che la famiglia è formata da un uomo o da una donna, quindi è finito questo passaggio pubblico, chiameremo Fedriga e gli spiegheremo anche loro cosa vogliamo. Non siamo assolutamente contro nessuno. Ecco, mentre Fontanini mi pare che ha sposato subito l'iniziativa, mi pare di capire che si è fatto anche promotore. Si ospita nelle stanze del Consiglio Comunale, ci mette a disposizione, abbiamo fatto la presentazione in una sala folatissima, che è quella del popolo lì in municipio, proprio qui era presente, è presentissimo. Ecco, ma da allora fino adesso le attività qual è stata? Secondo lei c'è stata un po' di pressione oppure è stato dimenticato questo importante contesto? No, direi che c'è meraviglia che un gruppo di persone si sia dato l'incarico di stendere questo documento. Siamo fuori, ripeto, dai partiti politici, non abbiamo nessun finanziamento, ci riuniamo a nostre spese, poi il bicchiere di vino ce l'andiamo a bere pagandoci. Questo è normale, anzi corroborante. Siamo contenti e vogliono, vede, questa terra ha perso tanto, la crisi economica e finanziaria è stata pesantissima in Friuli, ma soprattutto abbiamo perso l'asset delle banche negli anni, non sono più banche in Friuli, quindi a certo punto il fiore all'occhiello che ci rimane è l'università. Anche perché dobbiamo dire che Trieste, la sua rete l'ha fatta, quindi Porto sta prendendo corpo e questo potrebbe in qualche modo avere un contracolpo in Friuli oppure no? Oppure dobbiamo essere sempre così? No, dipende da noi. Se noi riusciamo a utilizzare la parte positiva di questo accordo, trasportando sul territorio nostro gli eventuali vantaggi di sviluppo, di commercio, eccetera, va bene. Se noi ci estraniamo allora è chiaro che ci rimettiamo e basta. Ecco, allora mi pare di capire che il mondo politico dovrà essere interessato, dovrà in qualche modo anche dire la sua. Naturalmente tutti saranno d'accordo, tutti diranno che va bene, però alla fine bisogna anche che alcune risorse vengano portate in campo per sviluppare ancora di più l'attività, no? Sì, noi vogliamo svegliare un po' i friulani su questo tema dell'università, hanno cancellato nello statuto l'università, direi l'inizio dell'articolo 26 che è quello che fa nascere l'università, che è fatta, che nasce per aiutare lo sviluppo di questa, è culturale di questa zona, di questa terra, di questo popolo. Lo hanno cancellato perché sembrava fosse un po' troppo provinciale, mentre invece è la radice vera della funzione della nostra gente. Anche perché anche il vicino Veneto ha delle università che lavorano abbastanza in sinergia, no? Noi non pensiamo di concorrere o di scommettere su Padova, su Venezia, su Verona, eccetera. Vogliamo avere un'università che sia collegata a una rete di università, anche di Trieste, Trieste ne ha due università, no? E vivere con la nostra, tenerla viva, non farla lentamente morire. Questo è il punto. Ecco, lei pensa che ci saranno anche delle manifestazioni pubbliche dopo aver naturalmente esperito tutto l'iter che va fatto, insomma? Ecco, il problema vero è di far capire ai friulani la battaglia che stiamo facendo. E questo volevo dire? Eh, noi non vogliamo così inventarci niente né fare i nostalgici di qualcosa, vogliamo solo dire, questa terra, questo popolo ha questa università, che è una cosa veramente rara, che ha avuto momenti di eccellenza anche all'inizio, adesso è un po' calata, calano gli iscritti, l'Erasmus non dimostra troppa attenzione a questa città, evidentemente gli studenti stranieri non vedono in Udine una città in cui venire con gli scambi culturali, ecco, si tratta di far rivivere queste cose. Ecco, qui l'amministrazione comunale dovrebbe in qualche modo essere in prima fila perché giustamente per rendere Udine appetibile, tra virgolette, proprio a questi saperi che stanno arrivando. E bisogna che questi giovani europei quando possono scegliere le sedi per l'Erasmus dicano vabbè, perché non andiamo a Udine, che è una città tranquilla, ma che però ha anche delle opportunità da offrire, se no le opportunità non vengono. Ha una storia anche da raccontare. È tutto da dire questo, dobbiamo tornare a dire alla nostra gente, guardate che c'è questa università, ma c'è questa città, c'è questa gente, c'è questa cultura, c'è questa capacità di ricreare ciò che è stato distrutto dal terremoto, ma prima ancora da Caporetto, qua abbiamo una storia mica da poco. Ecco, lei pensa che il popolo friulano, i cittadini sappiano un momentino qual è stata la storia dell'università, perché qualcuno forse la dà per scontata, è una battaglia che invece è stata dura. No, non si sa bene neanche quello che è stato fatto, siamo l'unica zona che ha ricostruito al 100% ciò che è stato distrutto dal terremoto, guarda in giro per l'Italia i disastri che ci sono, qui abbiamo rimesso in piedi tutto quanto, è del merito della gente che ha lavorato e si è rimboccata le maniche. E mi pare anche con ottimi risultati dal punto di vista economico, ancora un po' che torniamo dietro i soldi, questo sarebbe stato il massimo. L'altro aspetto che vorremmo che venisse raccolto dai nuovi dirigenti dell'università è seguire quelli che se ne vanno, cioè questi ragazzi che si laurano e poi vanno all'estero, vanno in Inghilterra, vanno in Francia, in Germania, cerchiamo di trattenerli qua o quanto meno di farli rientrare. Ecco, questo mi fa pensare una cosa, lei è stato anche presidente dell'Enterfriuli nel mondo e quindi ha un momentino anche una prospettiva, ha visto anche all'estero i nostri co-regionali, i nostri giovani e questo sarebbe un buon motivo per fare degli scambi interessanti, cosa pensa? Ma non solo, ma d'attorno lo dice anche la stampa di questi anni, che questi ragazzi quando vanno a insediarsi, che so, a Londra o a Berlino, creano il Focolar Furlan, cioè mettono la bandiera del Friuli, quella che non si è potuta mettere allo stadio la scorsa sabato alla partita della Nazionale Italiana, no? Lei sa che la bandiera è stata… Perché penso che sia stato un accesso di zero. No, penso che sia stato un qui pro quo, ma da non ripetersi, peraltro. È stata una cosa veramente, no? Che ha sollevato un po' la coscienza, un po' il popolo si è sentito un po' offeso. Eh sì, perché poi questa bandiera, lei la trova nel Fogoraz di Buenos Aires, la trova in Canada, la trova in Australia, questa bandiera con l'Aquila, no? Sono molto fieri e quindi io… Tra parentesi il 3 aprile c'è l'anniversario del… e quindi tutti metteranno fuori le bandiere florali. Certamente, io a Toronto ero per caso in quel periodo lì e hanno fatto uno spettacolo che ricreasse il clima della nascita del Friuli. Ecco bene, allora avete visto un momentino qual è lo spirito, soprattutto qual è il lavoro che sta facendo l'On. Santuzzi insieme ai suoi collaboratori, quindi a tutti questi personaggi che abbiamo citato. Sì, una segnalazione è da fare a Fabbro, che è un professore dell'università che sta organizzando tutto e lavora come un matto. Ecco, questo magari lo sentiremo più avanti. Eh sì, perché lui, io così faccio un po' da presentatore, ma il lavoro vero lo fanno loro, dietro tutti questi professori. Ma lei mo' anche alla memoria storica come è nata, come è fatta e quindi questo è, diciamo così, è metà dell'opera, se vogliamo chiamarlo. Va bene? Bisogna tornare a dire ai friulani che c'è una ricchezza vera che è l'università, che deve essere mantenuta e migliorata sempre. Bene, allora con queste considerazioni molto importanti dell'On. Santuzzi, io vi do appuntamento alla prossima puntata. Naturalmente buona visione con i friuli e grazie ancora per la sua partecipazione. Grazie a voi dell'invito e un saluto, ripeto, ai friulani che in questo momento stanno pranzando. Bene, alla prossima.